Altro che affollamento delle carceri, qua tutti al giudizio, tutti in galera, e quello che è peggio, tutti a bruciare nel fuoco della genna. Perché ciò che il Signore vuole dire con i suoi paradossi è che da un cuore malato, che pensa male degli altri, che li insulta, prima o poi uscirà fuori anche un omicidio. Perché tutto nasce dal nostro cuore, ingiusto. Un cuore cioè che essendo indurito è chiuso alla giustizia di Dio. Per questo rimane nel perimetro molto limitato della giustizia puramente umana, perché nella nostra giustizia non è prevista la giustificazione gratuita del peccatore. E sai perché? Perché scappiamo costantemente dalla croce, nella quale risplende la giustizia di Dio, che per mezzo di Gesù Cristo crocifisso ha giustificato l'ingiustificabile. Sì, perché Cristo, stendendo le braccia sulla croce, ha esteso oltre ogni misura la misericordia del Padre, abbracciando nel suo perdono ogni uomo, anche il peccatore più corrotto. Chi ha conosciuto questa giustizia per aver sperimentato la misericordia di Dio nella propria vita, senza alcun merito, ricevuta misteriosamente per aver aperto solamente per una piccolissima fessura il proprio cuore, nel momento di maggiore disperazione, quando la morte a causa del peccato stava ghermendo ogni centimetro della propria vita. Chi ha sperimentato tutto questo ha un cuore ricolmo della giustizia di Dio. È trasformato in giustizia di Dio. Guarda ogni persona, si avvicina anche all'uomo più duro, più difficile, più complicato, con la stessa giustizia di Dio. Ciò significa che il suo cuore e la sua mente sono purificati all'origine, e ogni pensiero, sguardo, parola è innervato e costituito da questa giustizia. Per questo tutti noi abbiamo bisogno di accostarci alla misericordia di Dio, sperimentare la sua giustizia, per riconciliarci con tutti quelli che sono accanto a noi, e così sfuggire al fallimento, alla frustrazione, all'inferno, che esiste e comincia qui sulla terra. Solo se giustificati gratuitamente da Dio, infatti, potremmo andare con il cuore stesso di Cristo, pronto a giustificare a nostra volta l'ingiustificabile, immergendo nella misericordia di Dio anche le persone che ce l'hanno con noi, sia che ce l'abbiano perché gli abbiamo fatto qualcosa di male, sia che ce l'abbiano con noi senza alcuna ragione. E chi vive immerso nella giustizia di Dio, sperimenta ogni giorno, in anticipo, il giudizio finale di Dio come un giudizio di misericordia. E questo significa vivere già qui sulla terra come un cittadino del cielo.